Devo raccontarvi una cosa che mi capita di tanto in tanto e mi auguro che voi non vi scandalizziate dei miei difetti, spesso non solo in Italia ma anche all'estero cammino per strada e vedo che qualcuno senza nessun motivo mi sorride, sapete qual è la mia prima reazione? Ahimè quella di diffidenza, dico ma questo che vuole o questa che vuole e tempo fa, mentre ho rifatto lo stesso sbaglio, ma anche direi lo stesso peccato perché avere la diffidenza nei confronti dell'altro è un peccato secondo me, la prudenza è una cosa diversa dalla diffidenza e il Papa di recente ci ha detto che la prudenza ci porta a vedere il bene nonostante il male che ci circonda, questa è la prudenza, la diffidenza no, la diffidenza vuol dire chiudersi in se stessi per impedire di vedere il bene che c'è al di là di me stesso, cioè a priori decido che non c'è più bene e quindi mi devo difendere, questa è la indifferenza e dicevo che ultimamente subito dopo che una ragazza mi ha sorriso per le strade di Roma senza nessun motivo a me è venuto in mente una frase di Mare Teresa di Calcutta la quale diceva che non sai quando un sorriso può fare del bene ed è vero, vedete ultimamente ho riletto un po' il diario di Mare Teresa di Calcutta per alcuni lavori che sto facendo e che devo fare e in quel suo diario, in quelle parole ho letto tanta gratitudine, nonostante la sofferenza, l'inquietudine interiore che per una vita intera ha vissuto, il senso di abbandono di Dio ha vissuto anche Mare Teresa, quella che i mistici chiamano la notte dello spirito, lei ha avuto sempre un atteggiamento di lode nei confronti di Dio e nei confronti delle persone e che cosa ricordiamo oggi noi per esempio di Mare Teresa di Calcutta oppure che cosa ricordiamo di Papa Luciani oppure che cosa ricordiamo di Papa Giovanni XXIII se non il sorriso. Un cuore grato è stampato anche sul volto, un volto sorridente, un sorriso che nasce dal cuore, dal cuore. Potrei dire di Padre Pio, dei sorrisi di Padre Pio. Padre Pio crocifisso per una vita intera, aveva dei sorrisi stupendi. Ma ultimamente mi sono così, sono incappato in alcune foto di Oscar Romero, il vescovo del San Salvador ucciso per la sua difesa dei campesinos, degli ultimi del suo paese. Bene, in quelle foto io ho visto sempre un pastore sorridente. Tra queste figure che vi ho citato oggi vi è un elemento comune, la gratitudine a Dio e agli uomini. La gratitudine a Dio e agli uomini ti stampa nel volto un sorriso del cuore. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!